Buongiorno, benvenuti a tutti, vi prego di prendere posto. Grazie, buongiorno e benvenuti all'opening Micam Milano 92, sono 92 anni ma credo che questo sia uno degli anni più importanti, c'è una grande attesa e non è un caso se lo slogan che accompagna questa 92esima edizione del festival sia Restart Together, ripartiamo insieme e credo che quest'idea di stare insieme, di filiera istituzionale in questa breve apertura dell'evento tornerà molto spesso. Vi presento brevemente gli ospiti ma prima di farlo vorrei ringraziare i 655 imprenditori che espongono a questa edizione del Micam e che per tre giorni, ed è questo l'augurio che tutti noi facciamo, riceveranno buyer da tutto il mondo. Quindi complimenti a loro, eroi che hanno resistito a questa lunga pandemia. Ho finito le mie chiacchiere, vi presento gli ospiti a cominciare dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, Siro Badon, presidente di Asso Calzaturifici, e vado avanti, Andrea Prete, presidente di Non Camere, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, e Carlo Maria Ferro che è presidente dell'ICE, il padrone di casa che io ho anticipato a salire sul palco e che mi raggiungerà è ovviamente Siro Badon, presidente di Asso Calzaturifici che rivolgerà a tutti voi il suo saluto. E' aperto? Bene. Ministro Giorgetti, presidente Acquaroli, presidente Ferro, presidente Prete, amici della stampa, ma in maniera particolare colleghi imprenditori e imprenditrici, benvenuti alla 92esima inaugurazione di Micam. Questa, come mi ha suggerito il ministro Giorgetti, sarà la fiera del rinascimento. Dopo 50 anni non si è tenuta una manifestazione di Micam. A febbraio, causa Covid, questa purtroppo non è stata organizzata. Micam è la fiera di settore più importante a livello internazionale e quest'anno abbiamo anche l'ambizione di dire che è la più grossa, la più estesa. Con i nostri 655 espositori, circa 400 italiani rimanenti stranieri da 20 paesi, siamo la fiera di moda più grossa in questo momento del mondo. Per organizzare una fiera del genere però non è così semplice. Ci sono quattro fattori molto importanti. La prima è la forza, la resistenza, il credere nel rinascimento dei colleghi imprenditori che qui hanno portato il loro know-how, le loro ricerche, le loro collezioni perché possano essere visitate dai buyer presenti. La seconda, permettetemi, l'associazione che io ho l'onore di presiedere che ancora una volta si è dimostrata resiliente, forte sul pezzo, organizzatrice di fiere in presenza in diversi paesi del mondo, naturalmente Micam è la più importante, il sistema Italia, Ministero, ICE, Agenzia, le regioni che oltre aiutarci dal punto di vista economico ci aiutano anche con competenze per permettersi di organizzare queste manifestazioni. E poi Milano, non devo dire io ma Milano si sta confermando sempre di più hub internazionali per quanto riguarda la moda e le calzature sono una parte molto importante di questo settore moda. Alcuni dati sul nostro settore, abbiamo pubblicato una decina di giorni fa la semestrale di questo settore. Il 2020 è stato un anno molto molto difficile per noi calzatorieri. I primi mesi del 2021 sono stati dei mesi un po' titubanti, ci aspettavamo un rimbalzo, fortunatamente secondo e terzo trimestre il rimbalzo c'è stato. Difatti gli indici sono tutti in salita, dalla produzione industriale più 13 punti, al fatturato 22 punti, ma specialmente l'export 31 punti percentuali, un po' equidivisi in tutti i paesi in cui noi facciamo parte. Però questo non è ancora sufficiente. Noi abbiamo bisogno di investimenti sul nostro comparto. Con il piano nazionale di resistenza e resilienza abbiamo la speranza che qualcosa sia riconosciuto anche noi calzatorieri. Qualche mese fa io sono andato dal viceministro Picchetto con un documento che ho consegnato dove sostanzialmente non chiedavamo la luna, ma chiedavamo un po' quello che il ministro ha sentito dai colleghi durante i nostri passaggi. Cioè una rivisitazione della burocrazia che oramai sta diventando asfissiante, una defiscalizzazione sui nostri campionari, sulle nostre collezioni, sulle nostre spese di ricerca, un investimento per quanto riguarda la digitalizzazione e la presenza delle nostre fiere a livello internazionale, una politica per quanto riguarda l'export, ne abbiamo bisogno. E poi per ultimo, lei mi ha detto che è una cosa difficile ma per noi è fondamentale, un ripensamento su quelle che sono le politiche per quanto riguarda la formazione e per quanto riguarda anche le creazioni di nuove figure professionali. Il nostro settore è un settore che si vanta di dire che una scarpa non può essere fatta con le macchine, deve essere fatta con le mani e con gli occhi degli operatori. Questo non è facile, però dobbiamo continuare una tradizione che oramai da decenni, da centinaia di anni ci caratterizza. Io con questo ho concluso, auguro a tutti un ottimo micam, ottimo business e un bocca al lupo a tutti. Grazie tante Presidente Badon, approfitto per un paio di saluti. Intanto qui con noi in prima fila c'è il Presidente di Mipel Gabrielli e il Presidente di The One Albertalli che guidano le due fiere che sono in contemporanea con il micam. Saluto l'assessore regionale Guidesi e l'amministratore delegato di Fiera, Luca Palermo. Benvenuti e buongiorno anche a voi. Ministro, il Presidente Badon ha messo argomenti che credo non le siano nuovi. Per cui, come dire, prego. Grazie e buongiorno a tutti. Gli argomenti, diciamo così, non sono nuovi. Alcuni però hanno preso una piega ulteriore dopo questi due anni. Ormai alla fine saranno due anni di trauma, quello che qualcuno ha definito uno tsunami che ha colpito l'economia profondamente e ha colpito ancora di più alcuni settori come quelli che oggi incontriamo in Fiera. Oggi credo che sia un giorno importante, un giorno importante in termini simbolici. La Fiera è esattamente il luogo in cui non c'è, non si registra un incontro virtuale, ma si registra l'incontro fisico e perché per certi prodotti oserei dire quasi fortunatamente la dimensione della relazione, del toccare, del vedere è e continua a risultare fondamentale. Quindi il rinascimento, come ho cominciato a dire io di questa fase, è proprio un momento in cui si esce da una specie di guerra. Fortunatamente la nostra generazione non ha conosciuto una guerra, ma questa in termini purtroppo anche di morti e soprattutto comunque per quanto riguarda il dato economico ha prodotto a livello nazionale, ma a livello globale, gli effetti di una guerra. Come vedete ci sono alterate le condizioni nei mercati, ci sono difficoltà di approvvigionamento, sono saltate addirittura le possibilità di approvvigionamento e alcuni settori sono addirittura bloccati nella produzione per questo. Se voi aggiungete poi la dimensione delle sfide del digitale, della sostenibilità, si capisce, si comprende perfettamente che siamo a un crocevia della storia economica, poi forse anche della storia politica, ma sicuramente a un crocevia in cui se ne uscirà con un quadro completamente diverso. E in questa fase l'Italia, l'imprenditoria italiana è chiamata a tirare fuori il meglio di sé, come nel rinascimento, esattamente come nel rinascimento. Non si chieda purtroppo, dico io da governante, agli italiani di avere disciplina. Dall'italiani possiamo avere capacità estro, specialmente l'estro individuale, che produce dei prodotti magnifici, che piacciono in tutto il mondo, che in tutto il mondo cercano. Ecco, siccome in tutto il mondo cercano i prodotti italiani, noi dobbiamo essere capaci di presentargli e portargli questi prodotti. Quindi la dimensione della proiezione internazionale è fondamentale in un mondo globalizzato. I nostri piccoli, medi imprenditori di questi settori devono avere la possibilità di guardare ben oltre il mercato italiano, che è comunque importante. Essere protagonisti di questo rinascimento è come esattamente in quel periodo, essere un po', diciamo così, l'esempio per tutto il mondo. Il governo ovviamente si è mosso, il mio ministero si sta muovendo, abbiamo dei tavoli, sono stati richiamati anche in precedenza, dove stiamo cercando di raccogliere le proposte e suggerimenti per essere al fianco degli operatori in questa fase post-bellica, chiamiamola così, è una fase che presenta molti rischi, ma anche molto opportunità. Dove naturalmente c'è questa capacità, questa vocazione imprenditoriale, questo estro, lo Stato deve esserci per garantire che possa svilupparsi nel modo migliore possibile. Quindi io sono felice di essere qui, oggi, in questo momento in cui riapriamo al contatto, alla relazione, le decisioni anche complicate e difficili che ha assunto il governo sono esattamente volte a questo, non a limitare la libertà, ma a aumentare la libertà e la possibilità di incontro. Noi abbiamo introdotto queste misure esattamente per aprire. Questo dobbiamo capirlo e credo che tanti l'abbiano capito e con la coesione e collaborazione di tutti gli italiani faremo ancora più grande il nostro Paese. Grazie. Grazie, grazie Ministro. Credo che una delle parole chiave della giornata di oggi sia aprire, oltre che riprendere insieme, ma aprire. Ne approfitto di questo mio piccolo intervento per salutare l'On. Fiorini e l'On. Lucentini che sono qui con noi. Quando parliamo di calzature parliamo di tanti distretti importanti. Nelle Marche c'è un distretto leader in Italia e non è un caso se oggi è con noi a rappresentare la regione Marche il suo presidente Francesco Acquaroli. Buongiorno a tutti. Sicuramente un saluto al Ministro e a tutti gli altri ospiti, illustri e alle autorità presenti. Il settore calzatoriero nella nostra regione è un settore molto importante non solo, questo è un dato fondamentale per l'occupazione e la capacità di produrre PIL nel nostro territorio regionale ma anche perché storicamente è uno dei settori che ha esaltato la nostra capacità manifatturiera facendola diventare un elemento importante, un brand che porta le Marche in Italia e in Europa e nel mondo. Chiaramente il settore calzatoriero come tutti i settori della moda in particolare hanno subito moltissimo il lockdown e le chiusure per la pandemia, hanno sofferto, le nostre imprese hanno subito un colpo importante però questa edizione del MICAM è un'edizione che appunto ci riapre alla socialità e ci dà una speranza importante che dobbiamo costruire e perseguire insieme. Le sfide sono tantissime perché insieme alla ripartenza c'è la sfida sicuramente di rilanciare un settore economico che già era in sofferenza precedentemente quindi la sfida del credito, la sfida dell'innovazione, della digitalizzazione, tutta una serie di sfide che ci devono vedere protagonisti anche nella capacità di affermarci e confermarci nei mercati internazionali. Su tutte credo che per la nostra regione sia importante e fondamentale anche la sfida dell'aggregazione, cioè del ragionare in squadra, di condividere strategie, di farlo insieme nella filiera istituzionale, col governo centrale, con il governo regionale ma soprattutto nei territori dove noi dobbiamo essere in grado di mettere in campo strategie, sinergie che consentono il potenziamento di una capacità produttiva che sicuramente è una grande eccellenza. Noi viviamo in questa fase storica un bivio che deve vedere protagonista la capacità di ragionare insieme. A volte la nostra regione, caro Ministro, si è distinta, noi siamo le Marche, una regione che anche nel nome si pronuncia a plurale, si è distinta per la capacità nel campanilismo di esaltare l'individualità e questo è stato un elemento positivo per tanti anni. Oggi insieme a questo elemento positivo bisogna fare un passo ulteriore nel ragionare, nella capacità invece di mettere insieme le forze perché la globalizzazione ce lo impone e la crisi ce lo impone ancora di più. Credo che però si sia intrapresa anche con le disponibilità che abbiamo avuto dal governo centrale un'attenzione particolare che noi abbiamo recepito come una volontà di discutere e di fare squadra che è proprio quella che noi cercavamo e credo che già in questo primo anno alcune iniziative importanti sono state intraprese dal Vicepresidente Carloni che io ringrazio che è qui presente e credo che nelle settimane prossime con tutte le associazioni di categoria e con la Camera di Commercio potremo mettere in campo quelle che sono delle scelte che per noi saranno fondamentali e credo che lo si farà con la consapevolezza che in questo momento queste risorse queste opportunità capitano oggi quindi vanno capitalizzate al massimo non vanno sprecate vanno spese nella consapevolezza che dobbiamo realizzare insieme un progetto una visione che deve tenere e essere competitivo nei prossimi anni sotto questa responsabilità noi cercheremo di non far mancare il nostro apporto totale grazie 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 presidente prende forma questa filiera istituzionale il governo le regioni e a pienissimo titolo certamente anche l'ICE e Union Camere e con noi il presidente dice Carlo Mariaferro prego presidente grazie buongiorno a tutti e grazie grazie per l'invito una nota di grande soddisfazione è quella che questa è la tredicesima fiera che inauguriamo nelle ultime tre settimane che è un segno di quanto sia stato importante il progresso della campagna vaccinale per riconsentire agli operatori e all'economia di ripartire e quindi non correre non dobbiamo correre alcun rischio di tornare indietro da questo punto di vista e poi c'è un dato e un segno positivo che è quello che l'export italiano nei sette mesi del anno è cresciuto rispetto ai sette mesi del 2019 del 4.2% quindi non solo è superiore ai livelli pre-covid ma fra i paesi del G8 che per me sono un po' una proxy dei grandi esportatori escludendo la Cina che è una dinamica molto speciale l'Italia è il paese che ha performato meglio però grazie per aver organizzato questo evento perché in economia le medie non necessariamente sono rappresentative delle situazioni e guardare le medie a volte rischia di fare degli sbagli e questo focus calzature e marche è importante perché parliamo di una regione e parliamo di un settore che ha una grande importanza sull'export e credo che parliamo di oltre un miliardo di valore delle esportazioni per la calzatura delle marche ma soprattutto che ha avuto una dinamica di forte ripresa nei sette mesi le calzature un 31% tuttavia la pandemia è stata particolarmente severa nei riguardi delle calzature e della moda in generale e l'effetto è quello che siamo ancora a diversi punti al di sotto dei livelli pre-covid così come anche la regione Marche ha avuto crescita nei primi mesi ma ancora credo presidente un paio di punti al di sotto dei livelli pre-covid e poi è un tessuto che è fatto soprattutto dei piccoli e medie imprese su cui quindi si pone veramente il tema dell'azione del sistema paese al supporto delle piccole e medie imprese per crescere sui mercati esteri per cogliere questa voglia di comprare italiano che il signor ministro citava prima e qua io non vi sto a raccontare le 15 nuove azioni che Ic ha messo in campo nell'ambito del patto per l'export ma ne ricordo 5 perché sono veramente orientate penso per offrire più opportunità ai produttori di media e piccola dimensione per andare al mercato il primo è quello di essere ritornati sul territorio Icce un funzionario dell'Icce tutti i martedì è presente presso la camera di commercio a rotazione Francona Pesaro e Ascoli per fare da ponte da antenna verso i nostri 78 uffici all'estero allora uno dice so dove trovarlo ma non ci vado perché mi costa i servizi per le imprese fino a 100 addetti quelli fondamentali come trovare un agente un distributore uno sdoganatore sono diventati gratuiti e poi questo apre anche la possibilità di partecipare alle fiere estere il primo modulo espositivo i primi 40 metri quadri di esposizione in collettive organizzate da lice in fiere estere sono gratuiti e questo tra l'altro proprio qualche giorno fa d'intesa col Ministero degli Affari Esteri l'abbiamo reso prorogato per tutto il 2022 quindi più presenza sul territorio gratuità dei servizi gratuità nell'andare nelle fiere estere però ci vogliono le competenze e per avere le competenze un'opportunità è quella di utilizzare i voucher per i temporary export manager e qua mi piace anche ricordare parlando di imprese di taglia più piccola che nella nuova configurazione i voucher tem temporary export manager sono utilizzabili anche da rete di imprese in modo tale insieme di poter avere uno stesso professionista che per un periodo più lungo assiste le imprese e fra poco partiranno un simile strumento per gli interventi di consulenza di acquisto di hardware o di acquisto di software sulla digitalizzazione delle imprese e infine il tema dell'e-commerce anche perché avevamo già individuato prima della pandemia di andare su questa strada la pandemia l'ha accelerata oggi ci sono 28 vetrine del made in Italy su altrettanti marketplace nel mondo e una per le vendite al consumo il cosiddetto B2C e uno per i rapporti fra gli operatori il cosiddetto B2B e di queste nove sono dedicate al settore delle calzature quindi Cina due piattaforme Sud Corea Germania Francia Spagna Regno Unito Stati Uniti con Amazon la Finlandia la Germania e Alibaba.com in 190 paesi per il B2B sono un'opportunità di presenza finora 195 aziende del vostro settore sono state ammesse complessivamente non solo per le calzature 206 della regione Marche ma qua anche vogliamo portare 7000 aziende e c'è spazio quindi io credo che sia importante che le imprese possono utilizzare al meglio questo supporto ma è un compito nostro che lo conoscano che ci credano che abbiano fiducia che non stanno perdendo tempo anche perché c'è una storia è una storia di a volte successi a volte delusioni quindi vogliamo superare questo e lo vogliamo superare come un impegno di sistema e qua chiudo ricordando anche questa attenzione e questa importanza che la combinazione fra tutti i diversi soggetti del sistema paese non importa quanti sono e le imprese non hanno necessità di capire che lì ce li aiuta per andare alle fiere la Sace per assicurare il credito la Simest per l'investimento le Camere di Commercio per le presenze sul territorio in Italia per le presenze all'estero abbiamo creato una piattaforma che si chiama export.gov.it che è un punto di ingresso che collega tutti questi soggetti a cui partecipano anche le regioni e l'idea è appunto quello di riuscire nel fare sistema a servire più imprese da questo punto di vista voglio anche salutare e dare anche un calorosissimo benvenuto nel suo nuovo ruolo al Presidente Prete con cui sicuramente rafforzeremo ancora di più la collaborazione col sistema camerale grazie grazie Presidente Ferro lo ha evocato chiudiamo il cerchio con il Presidente di Union Camere Andrea Prete bene intanto grazie per questo invito è una delle mie prime uscite in questo nuovo ruolo ruolo impegnativo e ripartiamo anzi come dice il Ministro Giorgetti questo nuovo rinascimento nasce anche da qui da oggi da questa bellissima fiera sulle calzature noi veniamo da un periodo travagliato però dobbiamo essere riconoscenti al Governo e al Ministro Giorgetti che lo rappresenta se oggi possiamo fare questa fiera perché in sostanza le scelte fatte dal Governo negli ultimi mesi sono state quelle giuste se noi abbiamo a fine mese probabilmente l'80% degli italiani sopra i 12 anni vaccinati vuol dire che siamo diventati veramente molto bravi e questo è il presupposto per la ripresa economica perché era indiscutibile che se non partivamo da un forte contrasto alla pandemia noi non avremmo potuto riprendere a lavorare ora abbiamo tantissime sfide tra l'altro abbiamo scoperto secondo me anche che gli scenari sono cambiati fino a qualche mese fa io mi ricordo che il problema era il blocco dei licenziamenti perché ci si aspettava che alla ripresa ci sarebbe stato un tracollo di chiusure che tutto sommato non abbiamo avvertito anzi abbiamo avvertito una grande ripresa e anzi al contrario abbiamo una situazione in cui non si trovano dei collaboratori con delle skill speciali abbiamo autisti di camion che non si reperiscono più abbiamo lavoratori per il settore della ristorazione dell'alberghiero che non si riescono a trovare quindi come vedete lo scenario è completamente in mutazione abbiamo un problema di materie prime come diceva il ministro in un'altra occasione in cui ci siamo incontrati il problema non è più la domanda il problema è l'offerta oggi abbiamo materie prime che non si trovano i cui prezzi sono schizzati in alto quindi come vedete abbiamo la necessità di adeguarci ai cambiamenti in maniera molto più rapida di quello che eravamo abituati prima perché il mondo ci sta cambiando sotto i piedi in questo noi come Union Camere possiamo avere un ruolo importante io ho partecipato come vicario all'epoca alle consultazioni del presidente Draghi quando fu incaricato e dissi le Camere di Commercio sono a disposizione del governo perché noi siamo il collante con il sistema delle imprese 6 milioni di imprese in Italia e possiamo essere utili perché altrimenti non abbiamo la necessità di avere questa funzione noi che le rappresentiamo cioè le Camere di Commercio se non sono utili possono rimanere uffici periferici del ministero sui territori ma se invece la legge 580 ha voluto che fossero gli imprenditori a rappresentare le Camere di Commercio noi vogliamo che queste siano veramente utili al sistema economico paese e lo possiamo declinare in mille modi sulla semplificazione dove noi possiamo dare una sicuramente una mano che sia la porta d'ingresso per tutte le imprese che devono contattare la pubblica amministrazione la semplificazione vedo che anche il ministro Brunetta si sta dando molto da fare signor ministro è importante lo sappiamo tutti il PNRR questo acronimo un po' complicato dice che entro il 2026 dobbiamo aver fatto le opere noi con le legislazioni vigenti in Italia non avremo attivato nulla nel 2026 a burocrazia vigente a norme vigenti se abbiamo tutti gli intracci che sappiamo e non stiamo qui a ricordare perché è una data che ci dice che nel 2026 dobbiamo averle fatte le opere ecco è un ambito dove anche noi possiamo dire la nostra sulla digitalizzazione abbiamo iniziato sull'internazionalizzazione col presidente Ferro abbiamo un protocollo di intesa ognuno farà la sua parte e devo dire che consentitemi la dimostrazione che le camere funzionano è Gino Sabatini il presidente della camera di commercio delle marche che posso usare come testimonial in tutta Italia tra l'altro figlio di una fusione di cinque camere di commercio quindi gli accorpamenti caro ministro funzionano quando ovviamente a guidarle ci sono le persone capaci grazie 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 presidente prete che ringrazio presidente grazie ringrazio il presidente della regione Marche Acquaroli ringrazio il presidente dice Ferro ministro resti un secondo con noi ancora prego perché c'è una sorpresa per lei ed è consegnata dal presidente della camera di commercio delle Marche Gino Sabatini che è qui con noi prego ministro vai vai il microfono arriva subito lo disinfettiamo e arriviamo subito con il microfono per il presidente Sabatini eccolo qui no no ecco questo qui giallo è un piccolo omaggio un ringraziamento al ministro perché ha accettato la proposta di partecipare a questo incontro con i massimi vertici regionali con il nostro presidente Acquaroli che ringrazio il presidente Ferro lo ringrazio il mio presidente Union Camere e il presidente Siro Badon è la loggia dei mercanti da qui dal 1200 si partivano i nostri commercianti per vendere i propri prodotti con i mercati dell'India i mercati dell'Adriatico dell'Ionico beh a lei ministro glielo con piacere glielo vogliamo dare perché siamo sicuri che questa filiera istituzionale che abbiamo sempre appoggiato e che lei sta portando avanti ma abbiamo presso le parole del nostro presidente della regione Acquaroli ovvero creare una filiera istituzionale tra la regione la Camera di Commercio le università il sistema diciamo dell'ICE tutte queste devono essere a supporto del mondo imprenditoriale la calzatura ha bisogno fortemente di questa unione della filiera e ridare magari quella possibilità alle Camera di Commercio di poter rappresentare al meglio i nostri imprenditori grazie ministro per essere stato qui con noi grazie allora io ho incontrato le Marche qui a Milano perché arrivare nelle Marche è un dramma è il posto più difficile da raggiungere in termini di infrastrutture in tutta Italia questo lo dico perché quando arrivano gli appuntamenti e si devono incastrare orari arrivare nelle Marche è un problema e quindi questo è un qualcosa che voglio sottolineare perché è un impegno che il governo in qualche modo dovrà assumere non va tutto bene c'è anche qualche cosa dove dobbiamo migliorare grazie grazie ministro c'è un posto riservato per lei perché noi diciamo chiudiamo questa prima parte istituzionale dell'opening per aprirne una permettetemi il termine culturale siamo tutti consapevoli che la calzatura italiana è fatta di aziende di diversa dimensione con diverse esigenze e allora c'è uno studio c'è uno studio molto interessante della università politecnica delle Marche è uno studio che non vale esclusivamente per le Marche ma credo che possa essere e possa contenere elementi utili per l'intero settore della calzatura italiana a presentarlo è il rettore della università politecnica delle Marche lui ha insegnato per dieci anni alla Lewis business marketing per cui come dire è la persona più adatta perché conosce la materia conosce il territorio e sono convinto che nei suoi dieci minuti cercherà di dare delle informazioni utili ripeto al distretto italiano e non soltanto a quello regionale Gianluca Gregori buongiorno a tutti signor ministro signori presidenti il mio compito è quello di fare una riflessione su alcuni concetti e possiamo andare anche con le slide così ragioniamo un po' insieme il titolo è già di per sé fondamentale perché fa riferimento all'integrazione necessaria istituzionale prima richiamava il ministro l'integrazione è stata richiamata più volte un'integrazione che però non può essere solo di tipo verticale ma anche orizzontale che significa qui vedete camera di commercio delle Marche università poitecchia delle Marche regione Marche ma poi ognuno di quei soggetti diventa integratore verticale la camera di commercio con Union Camere la regione con il ministero e a livello internazionale l'università con tutte le altre università e nel mondo e poi i nuovi modelli di business perché è cambiato è cambiato molto il mio sarà un approccio operativo pensiamo a questo settore come un settore fortemente eterogeneo ci sono griffe ci sono aziende che fanno contolavorazioni ci sono piccole e medie imprese ma ogni nazione e poi ogni territorio perché va calato sul territorio deve affrontare quella che è la transizione verso il nuovo paradigma digitale e globale e allora partiamo da un primo concetto che è quello delle informazioni cioè le informazioni non funzionano sono il primo parametro fondamentale per la competizione nel mercato informazioni che riguardano vari aspetti sia nazionali che internazionali nelle materiali che ho preparato e che forse ecco riusciremo a vedere molto rapidamente no non va ho sintetizzato quelli che sono diciamo le prospettive che sono state realizzate dal sistema union camere dalla camera di commercio delle marche e anche dalla regione marche un aspetto particolarmente interessante però è vedere che tutti questi piani questi programmi hanno una convergenza molto forte su alcuni temi che anche il ministro poco fa ha richiamato e se andiamo avanti proviamo a ragionare su quelle che sono le sfide principali che aspettano il settore calzaturiero avanti grazie ecco queste sono le sfide principali e proverò a evidenziare alcuni di questi aspetti per capire cosa si può fare concretamente se no parliamo ma non facciamo nulla allora nella prossima vediamo come l'innovazione può essere effettivamente concretata e vi farò vedere degli esempi reali di innovazione ancora dove la robotica collaborativa nel settore calzaturiero offre delle possibilità il problema è come fai a farla realizzare dalle piccole e medie imprese ecco perché dobbiamo stare e creare insieme piattaforme tecnologiche ecosistemi altrimenti questa innovazione la piccola impresa non la realizza se infatti procediamo vediamo questo approccio dei cobot dei robot collaborativi qui la fase che andremo a prendere in esame è quella della fase della lucidatura è un caso reale di un'azienda nostra calzaturiera del lusso e infatti procedendo ci accorgiamo come si può realizzare questa fase non solo in maniera manuale ma anche in maniera robotizzata ancora avanti dove la digitalizzazione delle forme consente di realizzare un prototipo che permette la lucidatura stessa ancora e questa è proprio la fase di prototipazione messa a punto del processo ancora avanti un altro contributo determinante guardate è dato dall'intelligenza artificiale anche da questo punto di vista l'intelligenza artificiale non la può realizzare una singola impresa qui ci sono delle possibilità enormi delle prospettive enormi adesso le andremo a vedere se affrontiamo la prossima slide ci accorgiamo di come mediante milioni di algoritmi noi riusciamo ad avere le possibilità di creatività e di innovazione offrendole a uno stilista questo non lo faresti mai perché capite bene che si tratta di mettere insieme milioni e milioni di informazioni quindi pensate a una potenzialità di questo tipo o ancora nella slide successiva questo è veramente interessante questi sono degli algoritmi cioè parliamo di nuovo di milioni di informazioni che consentono di ragionare sui coordinati e ti dicono le percentuali di coordinamento tra i diversi prodotti di nuovo non lo fai se sei una piccola impresa che non ha le risorse umane e finanziarie ecco quell'integrazione che diventa fondamentale se vuoi aiutare queste imprese ancora guardate un altro esempio di particolare interesse con la realtà aumentata l'operatore va a filmare il processo di produzione non è solo un problema di tracciabilità di sicurezza di qualità ma pensate a trasferire quello è un caso reale quindi parliamo sempre di casi reali sono tutti casi reali a trasferire quel messaggio ai clienti e cioè far vedere come si realizza quel prodotto pensate che valore ha prima il signor ministro parlava della comunicazione e del marketing che valore ha questo enorme no? quindi da questo punto di vista possiamo davvero intervenire ancora se procediamo nella prossima slide vediamo il tema della digitalizzazione qui c'è un ritardo digitale molto forte se ne parla si conoscono tutti i dati ho evitato di presentarveli ma il tema della digitalizzazione è davvero fondamentale ancora avanti c'è un esempio di questo laboratorio che è stato realizzato con il Mise con il finanziamento Mise sempre insieme Camera di Commesso cioè mettendo insieme le istituzioni che permette di fare ancora un sia attività di extended reality cioè quella persona che sta lì sotto con quegli occhiali fa progettazione in 3D di prototipi che passa direttamente ai clienti e verifica se quei prodotti hanno senso oppure no impensabili un tempo sono investimenti costosi? no se li facciamo a livello di sistema non sono investimenti costosi quindi da questo punto di vista altra possibilità l'additive manufacturing cioè produrre dal basso verso l'alto tecnica innovativa allora su queste cose ci dobbiamo confrontare ancora l'esempio adesso poi avremo diversi bandi ma su questo dobbiamo andare molto rapidamente prego questo è un esempio di intervento della regione Marche ancora altro tema è quello dell'internazionalizzazione l'internazionalizzazione è sempre meno un'internazionalizzazione di merci di prodotti è un'internazionalizzazione di conoscenza di esperienze di informazioni dobbiamo mandare all'estero e far tornare questo è il punto cosa possiamo fare insieme un progetto che vi presento Campus World è una sorta di ossimoro Campus World quindi locale ma internazionale noi mandiamo come università 200 laureati l'anno in giro per il mondo da 3 a 6 mesi il 70% ritorna in Italia il 30% rimane a lavorare fuori ma quel 70% in tutto il mondo qui io dico che c'è un claim che è dalla A alla Z dall'Australia all'Odi Zimbabwe ritorna portando esperienze conoscenze informazione è così che fa internazionalizzazione non è solo facendo le fiere le fiere sono fondamentali Presidente ma poi bisogna avere anche il tema esperienze e allora da questo punto di vista altri esempi di applicazioni digitali per l'internazionalizzazione lo dica agli operatori prego questo è un progetto reale che permette di sapere in tempo reale nelle principali 44 più importanti città del mondo io mi sono occupato di ricerche di mercato dovevo andare a Tokyo a New York questo lo fai di nuovo con algoritmi che ti dicono come cambiano gli stili in quel momento in quelle città che valore ha questa informazione e guardate avete parlato di aggregazioni le aggregazioni tra le piccole imprese hanno poco funzionato perché quando le aggreghi dal punto di vista del mercato c'è competizione ma su questi settori si può fare molta aggregazione cioè sul tema delle informazioni delle tecnologie si può mettere insieme le imprese è molto più facile e quindi su questo bisogna ragionare ancora avanti questo è veramente favoloso queste sono tecniche predittive che permettono di capire come cambierà il mercato in termini di tendenza di modelli il caso è delle borse e cioè shopper bauletti secchielli zainetti come cambieranno le borse pensate per la produzione per la programmazione e per dare risposte al mercato sempre derivanti da algoritmi di comportamento mettendo insieme tante informazioni ci diranno quello che dobbiamo fare no ma ci danno una tendenza molto chiara è molto forte da questo punto di vista adesso guardate scorrete pure le slide molto velocemente perché ci sono tutti i bandi che la regione Marche insieme alle camere di commercio insieme al ministero hanno realizzato quindi andate pure velocemente sull'internazionalizzazione su Dubai prego prego via via girate qui parliamo di 35 milioni da parte della regione di 25 milioni da parte della camera di commercio sostenibilità altro tema il tema della sostenibilità è un tema importante ma per ora molto teorico quando vado nelle imprese le imprese mi dicono come faccio a essere sostenibile qui c'è un problema di competenze perché non abbiamo manager della sostenibilità noi siamo partiti con un corso di laurea ma dobbiamo intervenire nel dare queste competenze e far capire tu impresa fai sostenibilità se utilizzi queste materie prime realizzi questi processi produttivi utilizzi questo packaging ma questo non si improvvisa no questo non può essere improvvisato e qui c'è un bando della camera di commercio che va proprio in questa direzione tema giovani start up anche su questo c'è grande attenzione non abbiamo parlato di scuole superiori di ITS di FTS dobbiamo recuperare quelle competenze tecniche io chiudo su questa slide fare una presentazione con slide non gestita da me non è facile ma questa è una slide che offre secondo me delle riflessioni molto importanti perché racchiude un po' quello che abbiamo detto e offre delle prospettive l'integrazione istituzionale l'abbiamo evidenziata dal locale all'internazionale orizzontale e verticale ruoli distinti chiari ma strategia convergente altrimenti non funziona io l'ho dimostrata le strategie convergenti partendo dai piani e dai programmi ma c'è un punto fondamentale partire dal mercato tu questo lo fai se parti dal mercato non se parti dall'organizzazione o dall'associazione di categoria devi capire il mercato dove va e utilizzare gli strumenti per il mercato questo è un errore concettuale che viene fatto anche nelle associazioni di categorie e guardate a scendere i cluster di imprese come facciamo a parlare di settore se questo è un comparto così eterogeneo le griff hanno le loro problematiche chi fa contolavorazioni per le griff ha le sue problematiche le piccole imprese che hanno un proprio mercato hanno le loro problematiche non sono le stesse problematiche allora mettere insieme questi elementi innovazione tecnologica gli ecosistemi fanno riferimento a quel approccio necessario di connessione tra le piattaforme tecnologiche e le imprese dell'internazionalizzazione delle digitazioni quindi li abbiamo parlato abbiamo affrontato questi temi ma guardate ce ne sono due ancora fondamentali uno è attrattività investimenti e reshoring questo è determinante quando ci siamo occupati di made in Italy abbiamo visto che le aziende sono andate via perché il costo del lavoro in alcune fasi taglia la latura era eccessivo e le dobbiamo far rientrare se no quelle competenze le perdiamo e poi c'è un altro punto e su questo chiudo che è il credito la ristrutturazione finanziaria noi qui avremo imprese che hanno utilizzato le loro risorse avranno grandi difficoltà ad avere quattrini dal sistema creditizio e noi le supportiamo con delle garanzie altrimenti alcuni di questi signor Ministro rischiano di giudere e direi però partiamo con questi auspici e quindi grazie molte da questo punto di vista saluto grazie grazie al grazie al rettore Gregori come avete capito si tratta di un lavoro corposo la sintesi è stata veramente una sintesi direi una strasintesi ma la documentazione ovviamente è a disposizione di tutti ne approfitto per prima di presentare i prossimi ospiti per dirvi che il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini sta consegnando al presidente dell'ICE Ferro al presidente di Union Camere Prete al presidente della regione Marche Acquaroli degli zaini prodotti nelle Marche con il logo della Camera di Commercio ok ci siamo allora chiudiamo questa grazie grazie a tutti chiudiamo questa questa parte con quattro ospiti che ci tengo che ci tengo a presentare vi prego di prendere posto grazie gentilissimi prego grazie vi presento il vicepresidente della regione Marche e assessore di attività produttive Mirko Carloni prego vicepresidente l'assessore al bilancio della regione Marche Guido Castelli il vicepresidente di Asso Calzaturifici Valentino Fenni e la presidente di Linia che è l'azienda speciale della moda e calzatura della Camera di Commercio delle Marche Francesca Orlandi dovreste avere ognuno un microfono sì è così lo abbiamo sanificato molto bene mi sposto perché così vi lascio ampia visibilità vicepresidente Carloni intanto le chiedo intanto le chiedo di come dire di fare un po' un riassunto di questa inaugurazione che per le Marche è stata come dire particolarmente significativa e anche la relazione del Rettore ha identificato punti sulle quali le Marche sono avanti diciamo che oggi in una frase Marche Uberalles siamo riusciti a creare grazie a questa sinergia istituzionale grazie alla Fiera di Milano ma soprattutto grazie al Ministro Giorgetti un'attenzione un focus come è stato detto sulla nostra regione e lo dico con grande soddisfazione ringrazio anche quello che per le parole usate dal Ministro dal Presidente Acquaroli qui con il collega Guido Castelli e con Marin Angeli Lucentini con tutta la squadra istituzionale stiamo davvero cercando di riportare le Marche al ruolo che gli spetta per la dignità per la dimensione per la qualità e per la credibilità delle nostre imprese abbiamo in una parola tante micro imprese ma che sono davvero grandiose quindi questo ci responsabilizza perché dobbiamo farlo valere dobbiamo riuscire a vendere questa credibilità sui mercati tradotto in politiche concrete stiamo valutando anche insieme alle altre regioni prima parlavo con il collega Guidesi e con il Presidente Acquaroli su come potremmo sfruttare i recovery per finanziare in modo strutturale le filiere la supply chain del settore delle calzature è fatta di microimpresa non possiamo pensare che gli aiuti possono essere ancora dati solo alle aziende di medie dimensioni o alle aziende sistemiche perché taglieremmo fuori il cuore pulsante della nostra economia taglieremmo fuori le micro imprese che hanno fatto il nostro tessuto economico quindi dobbiamo stare attenti nel cercare la sintesi solo su aziende significative ma come stiamo pensando di fare noi come il Presidente Acquaroli ha scritto nel programma il nuovo modello economico per le marche è la filiera l'epoca del metal mezzadro è finita insieme anche a un sistema del credito che l'altra volta nessuno si salva da solo nelle marche tante piccole imprese si riescono ad unire prima è stato fatto l'esempio da Prete sull'unione delle camere di commercio che ha portato al magnifico Gino Sabatini a guidare le camere di commercio delle marche credo che quell'esempio sia l'esempio da seguire se non se il divisionismo continua a lasciare il segno la nostra regione rischia di non essere più rappresentativa nei tessuti economici mentre invece presi singolarmente i nostri imprenditori sono straordinari ma rischiamo di perdere la guerra scollettivamente la guerra della competizione la guerra dei mercati dove l'altro giorno ho incontrato l'assessore della Toscana dell'agricoltura e mi diceva siamo riusciti a registrare il marchio Toscana punto per tutti i prodotti alimentari loro usciranno con un nome che è il nome della loro regione noi su questo dobbiamo imparare a fare sintesi e lo facciamo puntando su un modello economico innovativo che è quello delle filiere con il ministro Giorgetti e con lo sportello che è stato riaperto settimana scorsa delle piatti di sviluppo noi possiamo ripensare ad un sistema di finanziamento pubblico che veda nella filiera il nuovo modello economico in cui fare trasferimento tecnologico in cui fare finanziamento per renderli più competitivi innovativi esattamente su quelle traiettorie di innovazione che con gli uffici con le università come diceva Gregori stiamo cercando di puntare la nostra impresa è straordinaria ha bisogno soltanto di una spinta per crescere per diventare più competitiva innovativa e per essere misuata in modo aggregato se riuscissimo a fare un'aggregazione di filiere le marche credo potranno essere in vetta in tutti i settori quindi questa secondo noi è la strategia e senza dilungarmi troppo nelle prossime settimane coincidenza con il portfese coincidenza con il recovery metteremo in campo delle politiche anticicliche che servano a contrastare le perdite di questi anni il settore delle calzature lo dobbiamo dire purtroppo è uno di quei settori dove il segnale di ripresa a differenza del mobile di altri settori non c'è in modo così marcato e quindi ancora di più ci deve vedere impegnati a sostenere questo settore ma a sostenerlo non con degli aiuti con un stimolo alla crescita alla competitività Vicepresidente Fenni il Ministro il Presidente Acquaroli il Vicepresidente Carloni il Rettore dell'Università hanno disegnato questo modello di filiera istituzionale dove le istituzioni si muovono non solo aggregate fra loro ma anche per ognuna delle proprie responsabilità in senso verticale intanto le chiedo se questo modello che ovviamente interessa anche le aziende è un modello che le piace sul quale come dire concorda si sente? si si è un modello che va benissimo la maggior vicinanza delle istituzioni all'azienda non può che far bene di conseguenza colgo favorevolmente ciò che ha detto Carloni e va nella giusta direzione poi volevo iniziare con una battuta volevo ringraziare il Presidente Acquaroli perché l'ultima volta che ci siamo visti aveva promesso che avrebbe portato Mancini al Micam per fortuna non l'hai portato Presidente scusami perché se no stavamo a parlare del campionato europeo ci scordavamo i reali problemi di tutte queste aziende che stanno qua su e i problemi delle marche di cui i calzaturieri sono una buona parte ecco grazie mille perché noi parlavamo di tamberi che saltava Mancini le tattiche i giocatori e tutto quanto e adesso ci hai portato chi dovrebbe ci dovrebbe mettere l'idea chi ci dovrebbe mettere i soldi di conseguenza adesso sono a fare loro andare avanti ecco grazie mi allaccio fatto un assist allora era meglio mi allaccio in maniera straordinaria a quest'assist del vicepresidente Fenni per chiedere all'assessore Castelli insomma è chiaro che i calzaturieri un po' come tutti gli imprenditori sono abituati a chiedere soprattutto risorse tanto più oggi che la situazione post pandemica speriamo che veramente lo sia lo richiede ho come l'impressione che il problema non sia soltanto un problema di quanti soldi ci sono quanti soldi mettete sul tavolo o mi sbaglio è assolutamente vero buongiorno saluto a tutti vado subito al concreto è assolutamente vero perché i calzaturieri ci chiedono finalizzazioni realmente coerenti con quelle che sono le esigenze e quando si parla di fondi comunitari questa richiesta è particolarmente motivata e giustificata cosa succederà nel prossimo settennato nelle Marche ci saranno un miliardo e cento milioni per lo sviluppo economico e per le tutele sociali sono 720 milioni di FESR che è esattamente il fondo più finalizzato alle vostre esigenze e 320 milioni di FSE pure importante perché cura la formazione dico una cosa sulla formazione è stato detto oggi un problema fondamentale è quello della manodopera perché non si trova la manodopera specializzata non c'è è un tema che non possiamo solo approcciare attraverso la formazione ma anche con un problema culturale io non voglio fare polemica e dire che è anche inevitabile che quando dai 700 euro al mese per stare sdraiato su un divano è difficile che ti metti in mano via ma al di là di questa considerazione un po' malefica devo dire che c'è un problema culturale da secondare il lavoro è determinante la richiesta principale che ci viene è anche quella sul costo del lavoro e qui apro un'altra parentesi ahimè dal prossimo settembre il presidente Acquaroli lo dice sempre noi entreremo come regione Marche in transizione ovvero nella fascia delle regioni europee che purtroppo sono declassate per vitalità economica questa cosa porta più soldi ma questa cosa necessita di essere affrontata con molta determinazione perché perché fra le cose che potrebbero essere determinanti per il comparto col saturiero c'è la richiesta che il presidente Acquaroli con Mirco Carloni abbiamo appena fatto al ministro di valutare la possibilità di estendere la decontribuzione al 30% anche alle aree di crisi complessa delle regioni in transizione e l'area di crisi complessa di riferimento è questo non è impossibile perché da questo punto di vista potrebbe essere veramente una misura salvifica ma passiamo al FESR ciò che ci viene richiesto e ci stiamo industriando per poterlo realizzare è che finalmente il FESR non sia solo appannaggio dei grandi campioni manifatturieri che pure meritano tutta la nostra attenzione ma bisogna modulare gli obiettivi affinché possono essere intercettate dalla piccola e media impresa artigiana su 3900 circa 95 se non vado errato imprese del settore pellame e calzaturo l'80% sono con meno di 10 addetti e la metà sono artigiane allora il FESR visto che le marche sono queste orgogliosamente queste deve essere capace di leggere questa realtà fondamentale l'ultima considerazione e poi mi taccio è quella del credito è stato detto gli indebitamenti sono enormi delle imprese dobbiamo aiutare le imprese più che su un nuovo debito a rendere sostenibile e ristrutturabile quello che c'è avendo anche il coraggio come dire di trattare diversamente le imprese che ormai ahimè non ce la fanno più perché vanno aiutate diversamente quello è un problema sociale non è più un problema imprenditoriale noi anche con la collaborazione di alcuni dei presenti abbiamo anche sviluppato un progetto per la attivazione dei formi di microcredito che riguardano le imprese che hanno meno di cinque anni ma che pure potrebbe essere nel set degli interventi possibile una soluzione utile e necessaria insomma i soldi ci sono vanno gestiti bene vanno spesi bene la parte pubblica deve investire su se stessa per evitare che dietro i geroglifici della burocrazia un calzaturiero abbia difficoltà anche a rendicontare l'investimento ma questa è un'altra storia non solo marchigiana ma noi ci siamo e ne siamo assolutamente consapevoli Presidente Orlandi il Presidente Acquaroli in un passaggio chiave del suo intervento che non è stato un semplice saluto ma ha puntualizzato un po' di cose tra quelle che mi hanno colpito di più e le marche sono al plurale ma dobbiamo abituarci a declinarle a singolare e quindi a fare sistema io credo che una delle diciamo strategie per non declinare a plurale le marche sia la possibilità che le aziende lavorino insieme all'interno di Linea Linea di che cosa si occupa in particolare? Sì esatto innanzitutto buongiorno a tutti è proprio vero oggi abbiamo ascoltato più volte di quanto sia importante aggregare aggregarsi e fare sistema in questo sicuramente Linea l'azienda speciale della Camera di Commercio ha un ruolo fondamentale come sappiamo è il braccio operativo dell'ente camerale valuto proprio all'attuazione di tutte quelle attività volte a realizzare a favorire ma anche a sostenere i processi di industrializzazione delle aziende di calzatura e di moda in questo contesto per noi è molto importante le collaborazioni proprio come quella con la Regione e a tal proposito vorrei ricordare l'accordo sottoscritto lo scherzo luglio tra l'ente camerale delle Marche e la Regione Marche proprio sulla partecipazione alle fiere internazionali sia l'Italia che all'estero ma anche a piattaforme digitali B2B il bando voucher che è un sistema molto flessibile che le aziende possono operare come è importante anche la collaborazione con l'ICE attraverso l'ICE abbiamo organizzato diverse azioni di supporto e con la quale manteniamo un costante confronto per poter attuare degli interventi locali sulla nostra Regione in modo da fare sia rete che sintesi di tutte quelle informazioni e anche servizi offerti dalla ente camerale regionale con quelli invece offerti a livello centrale e governativo tutto questo per favorire un distretto che come sappiamo abbiamo già più volte sentito oggi ha dei numeri davvero importanti ricordo le province di Fermo e di Macerata che si posizionano al primo e al terzo posto all'interno della graduatoria nazionale in valore assoluto su aziende del settore appunto della calzatura e della moda purtroppo lo shock pandemico ha peggiorato una situazione che era già molto complicata il nostro istetto ha visto un processo di ridimensionamento numerico con saldi negativi tra quelli che sono il numero delle nuove iscrizioni e quelle delle cessazioni così come purtroppo sono negativi anche i saldi verso l'export in questo contesto quindi noi di linea con la camera riusciamo a fare sistema a fare sintesi e ad ascoltare come un po' casa delle associazioni tutte quelle esigenze e pluralità di vedute delle diverse associazioni a volte anche contrastanti per lo stesso strettore ma riusciamo a farne una sintesi e dare una risposta immediata di sostegno nel report nella ricerca prego Feni io vorrei ringraziare appunto la presidentessa dell'azienda speciale come pure il presidente Sabatini perché con i voucher della fiera molte aziende stanno a Milano grazie al supporto della camera di commercio e dell'azienda speciale in diretto anche quello della regione ci mancherebbe e auspichiamo che siano molto più auspico che insomma questi buoni risultati attraverso questo accordo ricordo un'iniziativa in particolare che è l'Obuv che vedrà 37 aziende il prossimo mese al 19-21 ottobre a Mosca che è una vetrina fondamentale per il nostro settore come sappiamo Russia riveste anche il nostro distretto è un po' importante sì esatto per il nostro distretto e grazie a questo accordo tutte le aziende hanno un abbattimento il 50% sul costo dello stand faccio a tutte e due la stessa domanda confidando su una risposta breve anche se il tema è abbastanza ampio il professor Gregori ci ha raccontato di esperienze di innovazione spinta che già succedono nelle marche allora la domanda che faccio è stiamo meglio di quello che pensiamo forse e aggancio una seconda una seconda domanda che cosa manca alle aziende per poter come dire disporre di questa di questa conoscenza infinita cioè qual è il passo che dovete fare voi imprenditori e i vostri colleghi per andare a bussare alla porta del professor Gregori e farvi raccontare cose che poi vengono utilizzate posso dire Michele scusami cioè il professor Gregori sì stiamo molto avanti però purtroppo il nostro è un settore che ancora ci si lavora con le mani e finché non ci impendano una terza mano o un sesto dito ogni mano ma lui c'è i robot i robot collaborativi siamo sempre siamo sempre un da capo e soprattutto quando abbiamo dei problemi abbiamo detto prima anche col ministro infrastrutturali atavici faremo sempre molta fatica per carità Presidente Orlandi beh allora prima il rettore ci ha dato un'ottima visione di tutte quelle che sono le opportunità che noi aziende dovremmo cogliere io da imprenditore ritengo che per poter recuperare proprio il terreno perduto e fare in modo che le nostre aziende possano registrare di nuovo trend positivi continuare a investire nel digitale è fondamentale in questo la camera purtroppo prima il rettore ha un po' accelerato ma ha già temi molto importanti come quello del digitale e della sostenibilità ha già insomma organizzato dei bandi molto importanti che ci possono aiutare la digitalizzazione non è solo aumentare la visibilità o implementare un B2B ma deve essere proprio una trasformazione digitale di tutti i processi aziendali della prototipazione fino alla vendita perché in questo modo si può sia migliorare l'efficienza produttiva ma anche dare una maggiore trasparenza a tutta la catena del valore e è un tema fondamentale in questo momento la sostenibilità abbiamo visto che i consumatori finali non sono hanno la propensione di più ad acquistare online ma acquistano con maggiore propensione verso i prodotti che sono economicamente e socialmente sostenibili quindi bisogna promuovere una certificazione bisogna che venga istituita una patente di prodotto italiano che rispetti i criteri di sicurezza e di sostenibilità perché sarà anche funzionale ad arricchire un altro argomento che oggi non ne abbiamo parlato tanto ma arricchire il concetto di Made in Italy che già di per sé è sinonimo di qualità ma con gli elementi della sostenibilità che hanno un impatto molto incisivo ora sul consumatore finale Assessore Castelli lei ha la cassaforte in mano con con dei dobloni con dei dobloni dentro la regione Marche ha avviato da diversi mesi una campagna di ascolto che non è banale e che riguarda tutti i settori dell'economia della nostra regione intanto chiedo a lei che cosa oggi si porta a casa lei esce dal Micam e che cosa si porta ad Ancona ma molto devo dire che il contributo offerto dal Rettore Gregori ma più in generale dall'aria dai sentimenti dalla lucidità che abbiamo respirato qui al Micam ci come dire conferma che non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare noi sappiamo dove andare sappiamo che è complesso sappiamo che però la visione con cui possiamo uscire da questo problema è quella che il Presidente Acquaroli ci propone sempre ascolto integrazione secondo un modello della società in cui diciamo una volta per tutto uno non vale uno un algoritmo non risolve i problemi con la fatica dell'ascolto del unire il desiderabile al possibile nulla è impossibile soprattutto per chi come i calzatorieri marchigiani hanno dimostrato della loro storia di cui siamo profondamente intimamente orgogliosi grazie Assessore Castelli Vice Presidente Carloni a lei la chiusura e le chiedo anche se è ipotizzabile come ho sentito prima pensare a un marchio Marche le Marche come marchio nell'enogastronomia in modo particolare nell'agroindustria sarà fondamentale lo abbiamo fatto con il biologico dove finalmente creeremo per primi in Italia un soggetto che parla di un'agricoltura sostenibile etica e che diventerà un'opportunità per etichettare georeferenziare un prodotto biologico che in teoria deve essere lasciato generalista noi cercheremo di dargli maggiore valore aggiunto voglio portarmi a casa da questa iniziativa un'idea della nostra regione che quando riesce a fare squadra quando gli individualismi i particolarismi diventano collettivo alla fine siamo davvero forti cioè oggi in questa fiera internazionale che è una delle più importanti al mondo si è parlato tanto della regione Marche e questo secondo me crea inevitabilmente un valore aggiunto per i nostri imprenditori io penso a un'idea della politica che è quella liberale per cui la politica non deve fare impresa non deve creare economia deve creare le condizioni affinché si possa fare economia deve favorire gli scambi deve alleggerire il carico il gravame amministrativo burocratico deve cioè fare la sintesi tra la sapienza chi fa la progettazione chi ha strategia per avere tutti insieme una visione strategica da dare a chi fa impresa perché sa che la pubblica amministrazione la regione la camera di commercio le aziende speciali con cui ci siamo confrontati le università tutte insieme vanno nella stessa direzione e se anche gli intermediari finanziari e le istituzioni superiori sanno dove le marche stanno andando io credo che saremo davvero molto forti quello che Acquaroli ci ha chiesto all'inizio di questo mandato a questa squadra è di dare una visione strategica di non andare a caso sulle cose perché come ha detto bene Guido siamo di fronte alla più grande contribuzione pubblica della storia e la cosa che non possiamo permetterci è di sbagliare quindi sentiamo questa responsabilità e dobbiamo tutti insieme trovare la strada nessuno si salva da solo ma sono convinto che tutti insieme renderemo ancora più grandi i nostri produttori grazie grazie ai miei ospiti grazie a voi che ci avete seguito grazie al Micam oggi è iniziata la fiera ho come l'impressione che la fiera vera è la nuova ripartenza inizi fra tre giorni quindi quando i battenti della fiera si chiuderanno ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e buona giornata a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti